Ma, scusatemi, ma che il doppiatore è un lavoro vero? Questa è la domanda che ha scatenato una polemica incredibile che ho fatto sul mio profilo personale, non sulla mia pagina Facebook. Perché io faccio un gioco con le 5.000 amicizie del mio profilo personale? Siccome ho sempre un sacco di richieste di amicizie, di persone che vogliono seguirmi, chiedermi l'amicizia, eccetera, io faccio un gioco per spolpare il mio profilo che si chiamano Angerdelli. Gli Angerdelli scrivo delle cose e in base alla reazione che non vorrei da un mio follower elimino il follower dal mio profilo. Quindi stavo giocando, ma volevo intendere anche una cosa. Cosa potevo voler intendere dalla domanda Ma il doppiatore è un lavoro vero? Ora ve lo spiego, ma vi dico che cosa è successo. In un primo momento risponde il buon Maurizio Merluzzo scrivendo Ma io non ho capito che lavoro fai tu? Chiedendolo a me. Maurizio, so che dare la voce ai pupazzetti può sembrare una grande cosa quando vai alle fiere del fumetto, ma quando sei il grandissimo dell'E-Mellov, sai, fai campagne politiche per parlamentari, consiglieri regionali, partiti locali, ti occupi di grandi aziende, di e-commerce, di istituzioni, di grandi eventi, qualcosa faccio. Il mio lavoro si chiama non social media manager, che è lo squattero del lavoro digitale, ma il social media strategist. Poi purtroppo devo essere anche social media manager perché da squattero di me stesso e per fare il responsabile di una strategia digitale devo conoscere un po' tutti i mestieri, gli elementi che ci sono dentro queste cose. Questo per rispondere al buon Maurizio Merluzzo, a cui mando un bacione, mi sapevo super simpatico. Mi dispiaciuto per il doppiaggio che ha fatto Shazam, che l'ho visto un po' scollato, ci ho fatto un video proprio su questo canale dove approfondisco il doppiaggio di Shazam. Ma lasciamo stare perché poi ho una pagina che si chiama il blastometro, spero di non essermi sbagliato, pagina fino all'ora conosciuta, ho usato il mio nome e la risposta di Merluzzo per metterla sulla loro pagina, ho preso questo screenshot del mio profilo personale, sapete quando non voglio fare polemia, quando non voglio andare in giro, non uso il profilo personale se non usare la pagina, quindi mi è dato un po' fastidio vedere lo screenshot del mio profilo mettendo solo la risposta di Merluzzo però ci sta dai, ci sta, alla fine la privacy del post era pubblica, io volendo posso essere definito, se anche un po' in ritiro, un personaggio pubblico e ci sta. Ma sotto quel post interviene Luca Ward o Luca Ward, non ho la minima idea come si pronunci, un grande doppiatore che come professionista non ha nulla da dire perché ha reso memorabili scene di cinema che adoro. Ma nel commento Luca Ward, tra parlando di molto tranquillo, dice lo chiuderei se ore in una stanza di registrazione con me e gli farei vedere se non lavoro. Luca, non devi chiudere se ore in una stanza di registrazione ma tutte quelle persone che il vostro settore ha illuso facendogli fare dei corsi anche di un certo valore economico sapendo già che quei corsi che il vostro settore ha messo in giro e illudendo migliaia di ragazzi non mi ricordo come è stata la frase comunque sapendo che quei corsi non avrebbero portato per quei ragazzi a nulla. Perché quando io ho fatto la domanda ma il doppiatore è un lavoro vero? Non voglio intendere che l'arte di doppiare non sia un lavoro o che sia facile. Assolutamente no. Dico però che piuttosto che essere un lavoro un settore lavorativo è una casta fatta principalmente di relazioni di networking nepotismo familiarismo chiamatelo come volete perché c'è stato un periodo in cui mi ero interessato a sapere chi fossero le persone che lavoravano nel mondo del doppiaggio e quando non avevano il cognome paterno ce l'avevano materno e quando non avevano il cognome né paterno né materno si scopriva che c'era un'amicizia che c'era stata una relazione eccetera quindi caro Luca Ward non mettere me sei ore con te in uno studio di registrazione prendi uno di quei ragazzi a cui fate fare i corsi di doppiaggio che dopo quella polemica sono venuti anche a riferirmi che ci sono dei corsi di doppiaggio ora non so se li fa Luca Ward se li fa qualcun altro dove insegnano doppiaggio a 50 persone insieme ora io non sono un professionista un esperto di doppiaggio ma ci sono io faccio il formatore faccio formazione per la mia parte di lavoro insegno come si fa una campagna di advertising come si utilizzano alcuni strumenti eccetera è già una classe classe che ha più di 10 persone secondo me è poco funzionale perché devo prima mostrare come si fa una cosa far fare a quella persona sotto la guida l'esercizio diciamo la replica di quello che ho appena fatto valutarne il risultato e se ci fossero più di 10 persone sarebbe un corso interminabile tant'è vero che ho deciso ormai di farli soltanto uno a uno alle persone quelli proprio specifici quelli un po' sopra la media del livello medio basso uno a uno online perché è solo quella dimensione registro quello che faccio in modo che poi nel privato quando è finita la lezione non se lo possa rivedere perché mi sono reso conto che un mestiere molto tecnico tra l'altro ha bisogno di questo tipo di formazione ora se il doppiaggio è complesso come è perché sono stato messo alla prova da Andrea Miura di o Exo la doppia stronzata non mi ricordo come si chiama so quando è difficile mi chiedo come si fa a fare un corso di doppiaggio per 50 persone ma non è che vogliamo come dico io raschiare cioè ma si pigliamo più persone possibili che vengono a fare il corso diamo la drittina diciamo il trucchetto raccontiamo l'aneddoto parliamo di voce linea teorica è così per certe persone che sono felici di stare a contatto con un mostro del settore dove loro vorrebbero entrare e dove non entreranno mai e così è fatta allora io dico a Luca Ward caro Luca chiedi scusa chiedi scusa ma non a me per avermi dato quella risposta tra l'altro tranquillissima chiedi scusa a tutte quelle persone anche se tu non c'entri niente chiedi scusa al nome del tuo settore visto che ne sei un altro rappresentante a tutte quelle persone che avete illuso credendo facendogli credere che potevano diventare doppiatori quando sapevate perfettamente che così non era ora però c'è anche da dire che non tutti quelli che vanno ad imparare il doppiaggio vogliono fare poi doppiatori io ne ho conosciuti alcuni che mi hanno raccontato dei corsi hanno detto no ma io sono andato lì per fare un'esperienza per vedere come funzionava anche per acquisire una maggiore sicurezza per parlare meglio per acquisire la dizione per comunque sentire un professionista per aggiungerlo al curriculum ci sta però sapete bene che quella è la minoranza e non la maggioranza delle persone che si approcciano e adesso qui scoppieranno sicuramente se non poi quelli che non sono arrivati a questa parte del video scoppieranno e diranno ma non è vero ci sono tantissime persone che non erano figli di amici di e sono entrate nel mondo del doppiaggio ah vorrei vedere punto uno su questa cosa vorrei vedere la proporzione cioè immagino che ogni tanto anche le amministrazioni corrotte un appalto vero lo debbano fare per non essere sai proprio estremamente compromesse in secondo luogo se mi fate gli esempi di Pagnotta di Andrea Murat ora dobbiamo stronzate non mi ricordo il nome nuovo o di Maurizio Merluzzo ce lo diciamo un po' che si possono essere eccezioni che conferma la regola però è incredibile come l'eccezione che conferma la regola sia sempre molto popolare delle eccezioni conosciute che noi sappiamo è incredibile come spesso questi siano personaggi che in qualche modo hanno un seguito siano particolarmente popolari e non voglio dire che facciano doppiaggio perché sono popolari sono bravissimi ma la loro popolarità gli dà l'opportunità di entrare in contatto con tante persone che contano in quei settori in quegli ambienti che frequentano magari sono invitate nello stesso luogo dove sono invitati loro e questo gli dà delle opportunità in più di testare relazioni perché secondo me il primo giorno di doppiaggio dovete dire ragazzi siete qui a fare doppiaggio prendetela come un'esperienza tecnica per imparare eccetera ma sappiate che poi per fare questo lavoro ci vogliono relazioni ci vogliono relazioni spiegatelo voi direte Delli come sai tutte queste cose per tanti ragioni tra cui il fatto che ho parlato con persone che hanno fatto questi corsi persone che sono rimaste scottate da questi corsi detto questo detto questo ci tengo a ribadire che i doppiatori sono dei grandissimi professionisti che ci sono caste e doppiatori che non fanno parte di caste ma che hanno iniziato la loro professione tantissimo tempo indietro tanto il tempo indietro che non possono essere evitati dalle caste seppur volessero e che tra tutti i tipi di doppiatori adoro adoro veramente quelli dei cartoni animati perché lì c'è un contributo che senza quello cioè il doppiaggio nella lingua originale o nella lingua di appartenenza non può esserci il prodotto quando invece si parla di doppiaggio italiano trasmesso all'inglese io per carità lo apprezzo perché sono un piro solo di certe serie e certi film che adoro mi piace sentire la lingua originale però tendenzialmente se vado al cinema mi rilasso di un momento di totale piastatezza e anche del lavoro di queste persone che ripeto come professionisti non ho nulla a dire come persone che mi invitano per così sfottermi sei ore nella sala di registrazione io dico prima chiedete scusa alle persone magari portatele sei ore nella sala di registrazione quelle lì che hanno fatto il corso non vi preoccupate di me la mia era una preoccupazione un po' di basso livello comunque vi ringrazio e l'ascolto ciao a tutti ciao a tutti